Avvocato del web, titolo importante, impegnativo e pieno di prospettive. Sì, sicuramente l'avvocato del web, questa figura professionale che in realtà abbraccia tutte le problematiche legali generate da internet, legate a internet, dalla reputazione online di aziende e persone fisiche, crimini informatici e la consulenza per quanto riguarda i contratti online e soprattutto la gestione del trattamento dati personali sia in azienda e sia quelli raccolti tramite proprio il sito internet. Mi rivolgo soprattutto alle aziende di commerce che appunto lavorano su internet, quello è il loro canale preferenziale. Qual è la tipologia di clienti con la quale si confronta più spesso? Le aziende, le aziende soprattutto detto e-commerce perché sono quelle che appunto affrontano molto di più, si trovano ad affrontare queste problematiche legate alla gestione del sito dal punto di vista del trattamento dati perché appunto bisogna avere un'informativa specifica, bisogna chiarire le finalità del trattamento perché ci possono essere anche, appunto ci sono finalità di marketing, finalità anche di invio di materiale pubblicitario e quindi c'è tutta una normativa da rispettare. Il regolamento europeo poi che entrerà, dovrà essere applicato a partire dal 25 maggio 2018 pone delle sanzioni, stabilisce delle sanzioni molto elevate nel caso in cui un'informativa di un sito internet non sia adeguata o sia carente, quindi bisogna stare molto attenti. L'avvocato del web è un avvocato che agisce in via preventiva, quindi non è l'avvocato che interviene quando ormai il danno è fatto, è proiettato come strategia di intervento ad associarsi, ad aiutare l'azienda a prevenire o fare in modo che i danni siano minori, questa è la funzione. Quindi da questo punto di vista l'avvocato del web aiuta e educa anche le imprese a lavorare meglio? Sì, perché io lo sottolineo, la privacy non è soltanto un fattore burocratico, in particolare stiamo parlando di privacy ma può essere anche un'occasione di business per l'azienda perché un cliente, un utente che sa che quell'azienda ha un sistema di gestione privacy anche offline e online importante, forte, si ritiene ovviamente più tutelato e quindi ritiene quella impresa più affidabile e quindi più competitiva. Avvocato, la struttura produttiva italiana è fatta da piccole e medie imprese. Come sono gli approcci e le reazioni delle piccole e medie imprese rispetto a queste tematiche? Io ho notato, sto notando perché anche l'avvocato del web è una figura nuova che si sta forgiando mano a mano perché parte dalla tutela delle reputazioni online, questo servizio che si occupa di tutela l'immagine per poi ampliarsi. Ho notato che sono soprattutto le aziende, le PMI under 35 che hanno captato l'importanza di avere un consulente legale del web. Sono soprattutto questo tipo di aziende che poi i dati di Cerdo e 2017 ci hanno detto sono quelle più attive sul web. Hanno capito che il web è il flucro della loro attività e quindi hanno anche intercettato questo tipo di esigenza. Cioè di avere non soltanto l'esperto di web marketing, il digital PR, ma di avere anche come figura che lavora con loro in stretto contatto nel proprio staff accanto all'ICT manager, per dire o comunque esperto di ICT, l'avvocato del web, il consulente legale del web.